Gravissime condizioni, un 64enne di Comiso dopo l'esplosione verificata nella cucina del proprio appartamento per una fuga di gas illesi gli altri inquilini, l'uomo è stato trasferito al centro Grandi Ussioni di Catania, indagini in corso dei carabinieri. Sull'inchiesta che vede la confisca di beni per 150 milioni di euro nei confronti dell'editore Mario Ciancio Sanfilippo, dopo la conferenza stampa di ieri in procura interviene uno dei legali di Ciancio, l'avvocato Carmelo Peluso. Non è a rischio, crollo il ponte sul torrente Bidemi lungo la liteoranea che collega Marina di Ragusa a Casuzze, ad assicurarlo l'assessore alle infrastrutture del comune di Ragusa Giuffrida dopo il sopralluogo dei tecnici, urgono solo interventi di manutenzione. A 116 anni dalla catastrofe che colpì Modica, oggi si terrà una cerimonia rievocativa commessa in soffraggio nella chiesa di Santa Maria di Betlemme e deposizione di una corona dall'oro a Palazzo San Domenico e ricordo delle vittime. Buon pomeriggio e bentrovati al nostro consueto appuntamento con l'informazione di MTG. In apertura la cronaca perché una fuga di gas ha provocato questa mattina l'esplosione nella cucina di un'abitazione in corso Vittorio Emanuele a Comiso. Gravissimo, un uomo di 64 anni che è stato trasferito al centro grandi ustioni di Catania. Le indagini sono dei carabinieri di Comiso. I dettagli da Viviana Sammito. Si era alzato di buon mattino per fare colazione ma quando ha acceso la luce è avvenuta la deflagrazione che ha provocato a un comisano di 64 anni ustioni nel 40% del corpo. L'uomo in gravissime condizioni è stato ricoverato all'ospedale Guzzardi di Vittorio e successivamente con l'elisoccorso al centro grandi ustioni del Cannizzaro di Catania con la prognosi riservata. L'esplosione è avvenuta stamattina in un appartamento di Corso Vittorio Emanuele in via Cassarino a Comiso. L'uomo era in casa con la famiglia rimasta illesa perché moglie e figli dormivano in una parte dell'abitazione non coinvolta dall'esplosione provocata secondo l'accertamento dei vigili del fuoco e dei militari dell'arma da una fuga di gas prigionata durante la notte perché la valvola è rimasta aperta. L'ambiente della cucina dunque era invaso da una nube di gas che con l'accensione della lampadina ha provocato la deflagrazione. I danni strutturali sono circoscritti alla zona interessata. Il condominio non ha subito danneggiamenti né si sono registrati altri feriti. Le indagini sono dei carabinieri di Comiso che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Ed è indagato per omicidio colposo il proprietario di un terreno situato in contrada moglie ad Acate dove è stato trovato molto in una vasca di irrigazione il rumeno di 26 anni Marian Cosmin Baer il 18 settembre scorso. I carabinieri che stanno continuando le indagini con il coordinamento della procura eblea hanno accertato che a provocare il decesso del giovane a seguito di una scossa è stato un cavo elettrico scoperto vicino alla vasca di irrigazione. Giovedì scorso il medico legale incaricato dal PM di turno di Apica ha effettuato l'autopsia confermando la tesi che la morte sia sopraggiunta a seguito di un altro evento. I militari hanno inoltre accertato che il rumeno lavorava in nero senza alcuna garanzia sulla sicurezza oltre che previdenziale e che viveva in un casolare vicino alla vasca di raccolta di acqua piovana dove è stato trovato il cadavere. Le indagini dei militari continuano per escludere altre piste. Torniamo invece adesso a parlare dell'inchiesta che vede la confisca di beni che ammontano a 150 milioni circa nei confronti di Mario Ciancio San Filippo perché ieri la procura di Catania ha parlato con la stampa spiegando le accuse nei confronti di Ciancio. Oggi invece parla uno dei legali di Ciancio l'avvocato Carmelo Peluso in una nota stampa inviata all'agenzianza. Hanno presentato ricorso in corte d'appello gli avvocati difensori dell'editore catanese Mario Ciancio San Filippo dopo il provvedimento di confisca dei beni che ammontano a circa 150 milioni di euro. Lo si evince in una nota stampa divulgata dall'agenzia ANSA la nota firma di uno degli avvocati Carmelo Peluso ripercorre alcuni passaggi della vita imprenditoriale dell'editore, gli inizi, l'espansione, gli interessi in agricoltura e nell'editoria. E' bene sapere che il procedimento di prevenzione antimafia si fonda sul mero sospetto e non sulla prova rigorosa della responsabilità che è l'unica che può dar luogo ad una sentenza di gondanna. Queste le parole dell'avvocato Peluso. Il Tribunale della Prevenzione emette un giudizio sulla pericolosità sociale di un soggetto in funzione del sospetto di una sua appartenenza a sodalizi mafiosi, aggiunge ancora illegale. Ciò basta per rendere inquietante questo giudizio che deve essere condotto con grande equilibrio proprio per non indulgere al sospetto privo del requisito di concretezza che la legge impone, scrive Peluso. Il solo auspicio, si legge nella nota dell'avvocato, divulgata dall'Ansa, è che il giudice di appello abbia la serenità di valutare correttamente il materiale proposto dall'accusa. È difficile fornire la prova di tutti gli investimenti effettuati in 40 anni di vita del Ciancio, essendo impossibile reperire presso le banche documenti risalenti ad oltre un decennio, si legge nella nota. La difesa ha ricostruito quanto possibile con attenzione e dovizie di particolari, dovendosi arrendere solo davanti all'assenza di dati ultraquarantennali. Pensiamo all'assurdità dell'accusa fondata sul solo sospetto senza prova, scrive Peluso, un giudizio senza processo. Se è vero che storicamente la mafia divenne imprenditrice, solo alla fine degli anni Ottanta quale mafiosa avrebbe accumulato quella fortuna negli anni Settante e con quali attività? Anche la fonte illecita, quindi, continua la nota dell'avvocato, è stata individuata solo per l'intuizione del giudice che si fonda sul sospetto e non sulla prova. Viene voglia di definire il sospetto del Tribunale un incredibile falso storico, continua il legale di Ciancio. Ciancio è vicino ai mafiosi per decreto del Tribunale, non perché lo abbiano percepito i cittadini di Catania che lo hanno avuto accanto per tutta la vita, non perché abbia commesso fatti eclatanti noti all'opinione pubblica, non perché abbia avuto frequentazioni poco chiare, ma per decreto. Così ha concluso l'avvocato Carmelo Peluso. E ancora la cronaca, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzioni di arme sono solo alcune delle accuse mosse contro un 25enne di Mascali nel Catanese. I carabinieri hanno perquisito la casa del giovane e con l'infallibile fiuto del canno antidroga Ivan sono stati ritrovati 10 kg di marijuana e 40 g di cocaina. Due pistole e 40 munizioni sono state rinvenute all'interno di una scatola nascosta sotto una scala che collega la zona giorno alla mansarda. Le armi nei prossimi giorni verranno inviate agli specialisti del RIS di Messina per essere sottoposti agli esami tecnico-balistici per stabilirne l'eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi. I carabinieri di Modica nel corso di una perquisizione hanno rischiato di essere aggrediti da due pitbull di proprietà di una coppia di pusher arrestata per detenzione ai fini dello spaccio di droga e violenza pubblica ufficiale. All'albe è scattato il blitz in via a consortile Mantegna-Itria a Modica dove è stata segnalata l'abitazione sospetta di una coppia di marito e moglie di 28 e 24 anni. I carabinieri per evitare di essere aggrediti dai cani di grossa taglia si sono allontanati sollecitando i proprietari a legarli. La donna nel tentativo di distrarre i militari li teneva impegnati mentre il marito cercava di far sparire la droga lanciandola dalla finestra. All'interno dell'involucro c'erano 21 grammi di marijuana già pronti per lo spaccio e circa 160 euro in banconote di piccolo taglio, sicuramente provento di spaccio. La coppia di spacciatori è stata arrestata in flagranza e posta a disposizione del PM di turno Monego per i successivi provvedimenti. E la polizia di Stato ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa nei confronti di una ragusana di 38 anni pregiudicata già sottoposta al regime della sorveglianza speciale. La donna è stata condotta al carcere di Piazza Lanza a Catania perché deve spiare la pena di tre anni, un mese e cinque giorni di reclusione in quanto colpevole di alcuni furti aggravati commessi a Modica. E cambiamo argomento, i deputati del Movimento 5 Stelle regionale hanno donato 30 mila euro all'associazione Ollus Parco del Sole che da anni si occupa del recupero dei bambini che vivono per strada e per sostenere anche le famiglie bisognose offrendo loro delle attività didattiche ma anche ricreative. La prossima settimana ci sarà la seconda edizione invece delle borse di studio per atleti disabili un altro dei sette progetti finanziati dei 5 Stelle e il servizio. È stato finanziato con parte degli stipendi dei deputati regionali del Movimento 5 Stelle per 30 mila euro il progetto contro la dispersione scolastica a favore dell'associazione Ollus Parco del Sole che da anni opera per strappare i bambini alla strada e perseguire quelle delle famiglie bisognose offrendo loro lezioni di doposcuola, laboratori teatrali, di manipolazione e gite didattiche. Saranno inoltre sistemati i locali che ospitano il Parco del Sole nella chiesa sconsacrata San Giovanni Decollato a Palermo. L'iniziativa è stata presentata ieri a Palazzo dei Normani ed è la settima di una serie di interventi iniziati nel 2012 grazie al taglio degli stipendi per un totale di 2 milioni di euro. Ho invitato queste persone a venire a visitare il palazzo perché ho capito quando siamo entrati lì che praticamente vedono questo palazzo da fuori e non hanno ben capito cosa avviene. Avvengono cose belle qui dentro come purtroppo avvengono anche delle cose assurde come quelle ad esempio di Gianfranco Miciche che invita più volte i deputati regionali a donare 1.500 euro o una tantum per poter fare della beneficenza. Non gli ha mai risposto nessuno. Questo dà la scura e il metro di quando siano attaccate queste persone per riuscire a fare un pochettino di volontariato o comunque un pochettino di beneficenza. Vediamo nei particolari come il Movimento 5 Stelle ha contribuito alla carecita dell'isola con particolare riferimento a Palermo e Catania. 1.200.000 euro a favore di imprese, alcune di queste start-up che hanno creato nuova occupazione, 320.000 euro per ricollegare parte della Sicilia con la realizzazione della trazzera dopo il crollo del viadotto sulla A19, 360.000 euro per il boom polmoni urbani, un concorso di idee che mira a promuovere la creatività dei giovani siciliani e nuovi modelli di sviluppo urbano. Il Movimento 5 Stelle ha finanziato tre progetti che puntano al recupero e alla riqualificazione di tre aree a Caltanissetta, Mazzara del Vallo e a Catania. Con 30.000 euro i parlamentari regionali hanno contribuito alla restituzione della casa alla famiglia di Vittoria Guarascio messa all'asta e due edizioni con l'assegnazione di 120 borsi di studio per un totale di 60.000 euro ad atleti e disabili siciliani. Il Vice Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giorgio Pasqua, ha sottolineato che grandi cambiamenti cominciano nelle piccole concretazioni. Vogliamo raccontare questo progetto? Gli ha fatto ecco la capogruppo Valentina Zaffarana, perché le cose che si fanno se le metti sotto il tappeto non le sa nessuno? Non è a rischio crollo il ponte sul torrente Bidemi che collega lungo la litorania che collega Casuzze a Marina di Ragusa. Ad assicurarlo è l'assessore alle infrastrutture della comune di Ragusa, Giuffrida. Carmela Minardo. Nessun rischio crollo per il ponte sul torrente Bidemi che collega Marina di Ragusa a Casuzze. Urgono solo interventi di manutenzione ordinaria. È stato l'assessore alle infrastrutture del comune di Ragusa, Gianne Giuffrida, ad assicurarlo dopo il sopralluogo effettuato dai tecnici. Il viadotto è lungo 28 metri ed è stato realizzato in cemento armato precompresso. La competenza è sia del comune capoluogo che di quello di Santa Croce che dovranno dividere le spese. Il primo intervento riguarderà proprio la ringhiera che si è staccata dalla struttura. L'intervento sulla ringhiera che in questo momento consideriamo l'intervento più importante per la sicurezza dei cittadini verrà fatto appena avremo il bilancio approvato e quindi con le prime somme a disposizione naturalmente previ accordo con il comune di Santa Croce perché qualunque intervento si fa su quel ponte per essere fatto nella sua internezza deve essere in qualche modo concordato con il comune di Santa Croce. Successivamente in funzione degli istanziamenti che speriamo arrivano dal punto di vista nazionale o regionale interveremo nel rispetto delle criticità dei vari ponti sull'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria un po' su tutte le nostre infrastrutture. Al momento comunque non c'è un'urgenza per chiudere magari al traffico questa infrastruttura? No, no, assolutamente, i tecnici nostri hanno fatto i sovrlochi, non hanno evidenziato nessuna criticità né su questo ponte né su altre infrastrutture presenti nel comune di Ragusa. Revocata l'ordinanza della Commissione prefettizia in merito all'utilizzo dell'acqua a Scoglitti, la decisione è stata presa dopo che l'ASPA ha reso noto alla Commissione straordinaria l'esito dei campionamenti effettuati lo scorso 18 settembre sull'acqua potabile in diverse zone di Scoglitti. Le analisi hanno confermato quanto già evidenziato dai laboratori incaricati in precedenza dal comune, ovvero che i parametri chimico-biologici rientrano nella norma. Il vice prefetto Giancarlo Dionisi ha provveduto a revocare l'ordinanza di divieto di uso per fini potabili e dunque ha dichiarato che l'acqua pulita può essere tranquillamente utilizzata a scopi potabili. Nuova viabilità nella zona del presso Denaro Papa a Modica in via sperimentale è stato infatti istituito nella zona antistante all'Istituto Denaro Papa il senso unico di marcia in direzione via Rocciola Scrofani via Conti Silvestri nel tratto di via Sulcenti compreso tra il Giardino di Rita e via Conti Silvestri per risolvere il problema del traffico in corrispondenza delle entrate e uscite del plesso. I veicoli provenienti dal polo commerciale non potranno quindi accedere nel tratto antistante all'Istituto se non attraverso le tre casucce Rocciola Scrofani via Sulcenti. A Proda invece in Consiglio Comunale a Ragusa il bilancio di previsione. L'approvazione dello strumento finanziario consentirà alla Giunta di poter operare concretamente i dettagli. Sbarca in Consiglio Comunale di Ragusa il bilancio di previsione 2018-2020. L'approvazione dello strumento finanziario consentirà all'amministrazione di poter finalmente operare concretamente. L'assessore allo sviluppo economico Giovanna Licitra spiega che finalmente si potrà intervenire in quei settori che da tempo attendono interventi tangibili. Sicuramente alcuni passi importanti devono essere fatti sul piano dell'aiuto alle imprese. Mi riferisco alla programmazione sul piano commerciale, ai lotti artigianali, al settore del turismo per il quale bisognerà assolutamente fare una buona programmazione a supporto delle strutture ricettive dell'operosità di tanti imprenditori che in questa città fanno molto per il settore in questione. In questo senso non mancheranno decisioni importanti, sicuramente sia sotto il profilo del centro storico sia sotto il profilo dell'organizzazione e della pianificazione di eventi e manifestazioni importanti che sono comunque elementi di attrazione per il settore turistico. Non mancherà anche un'idea nuova di mobilità all'interno della città. I lavori sono stati aperti dalle interrogazioni da parte dei consiglieri. In particolare è stato posto l'accento sui lavori negli edifici scolastici e sull'avvio del servizio di refezione. Era giusto sistemare le scuole prima che i bambini entrassero nelle scuole, ma comunque vada, è giusto che i lavori si facciano. Il problema è un altro, non capisco il perché la giunta ad oggi, che siamo quasi al primo di ottobre, ancora non parla assolutamente di refezione scolastica. Credo che sia proprio una continuità amministrativa quella del sindaco Cassi, perché quello che succedeva negli anni passati, cioè che della menza scolastica se ne parlava all'inizio di ottobre, poi forse a novembre iniziavano a mangiare i nostri figli. Quindi io ho chiesto oggi in consiglio gli intendimenti della giunta, appunto per quanto riguarda la menza scolastica, cioè che si devono sbligare a fare magari il bando e dare ai nostri figli dei pasti che non sono sicuramente i panini. Adesso ci spostiamo a Catania perché l'azienda Dasti, che vincitrice della gara a ponte per la gestione del servizio di raccolta rifiuti a Catania, che dal 17 settembre in attivo, ha creato un numero WhatsApp al quale è possibile inviare delle segnalazioni a gestire il numero l'amministratore delegato dell'azienda. 351 21 52 778 E' questo il numero che l'amministratore unico della Dasti, Rossella Pezzino De Geronimo, ha creato per dar vita a un non contatto diretto con la cittadinanza. La Dasti da otto giorni si sta occupando della pulizia di Catania e della raccolta dei rifiuti. Grazie a questo ulteriore servizio, sono proprio i cittadini a poter segnalare le criticità e due squadre apposite interverranno nel giro di pochissimo tempo. E a rispondere ai cittadini sarà proprio la signora Pezzino. Siamo all'inizio, non abbiamo la bacchetta magica, sicuramente ci sono tante criticità che non siamo riusciti ad eliminare perché ci vuole tempo, perché dobbiamo formare il personale, riqualificare il personale, abbiamo ovviamente tanti problemi, abbiamo trovato una situazione di accumuli precedenti e stiamo cercando naturalmente di andare a regime, ma ancora abbiamo almeno una settimana di tempo davanti a noi per mettere tutto a posto. Ora però questo numero che abbiamo pensato di promuovere è un numero magico, dico io, perché mi dà la possibilità di instaurare un rapporto diretto con la gente, che è questo che voglio io, perché io il contratto non l'ho firmato solo col Comune, l'ho firmato soprattutto con i cittadini ed è quindi un contratto a tre, senza l'aiuto dei cittadini io non posso vincere questa sfida e quindi è solo tutti insieme che possiamo farlo. Voi non avete idea delle persone che... Lo gestisco io questo numero in prima persona e ricevo Whatsapp a non finire, ai quali rispondo immediatamente, provvedo immediatamente, perché ho creato due squadre speciali che apposta devono assolutamente sistemare in tempo reale tutte le criticità che mi vengono segnalate a questo numero di Whatsapp. 26 settembre, oggi una data importante per la comunità di Modica, perché 116 anni fa l'alluvione che colpì tutta la città. In occasione di questo anniversario dalla catastrofe è stata organizzata una cerimonia rievocativa con una messa in suffragio presso la chiesa di Santa Maria di Betlem e la deposizione di una corona d'alloro nell'atrio comunale di Palazzo San Domenico nel ricordo delle vittime. Nella notte fra il 25 e il 26 settembre 1902, in meno di mezz'ora a Modica, si consumò una delle tragedie più in mani della storia. Da oltre 24 ore pioveva dirotto e le piogge superarono di gran lunga le medie stagionali. La furia dell'acqua devastò le campagne del Moricano distruggendone i raccolti, allagando i campi e le strade. La terra non era più in grado di contenerla, di lì a poco i torrenti Pozzo dei Prugni e Gli Animauro sono straripati raccogliendo le acque in piena del Passo Gatta, Cava Fazio e della Vaccalina come in un imbuto. Il dislivello era di oltre 150 metri. Il torrente Pozzo dei Pruni piombò alle spalle della chiesa di Santa Maria di Betlem con un fronte d'acqua di oltre 11 metri di altezza, circa 50 chilometri l'ora. Il ponte della catena crollò, le prime case di abitazioni furono spazzate via come se fossero state di carta. La chiesa di Santa Maria si riempì di acqua melmosa per un'altezza di 3 metri e 50. L'acqua sfondò i balconi delle case vicine, allegandole e lasciandole in un metro di fango. Le colonne degli attuali ponti Pulera si incrinarono e porosamente l'atrio comunale si riempì di acqua per un'altezza di 3 metri. L'alveo coperto di piazza San Domenico scoppiò e l'acqua raggiunse 10 metri di altezza dal letto dell'alveo. In prossimità del ponte stretto, le acque del Pozzo dei Pruni e dello Iannimauro fecero innalzare la fiumana che si riversò sull'attuale via Vittorio Veneto. Pesante il bilancio della tragedia, oltre 100 vittime. I danni alle costruzioni urbane e alle campagne erano incalcolabili. A 116 anni dalla catastrofe che colpì la città di Modica, è stata organizzata oggi una cerimonia rievocativa commessa in suffraggio nella chiesa di Santa Maria di Betlem e deposizione di una corona dall'oro nell'atrio comunale di Palazzo San Domenico, nel ricordo delle vittime. Nel ricordo delle vittime, inoltre, l'amministrazione comunale intende riconfermare le attestazioni di gratitudine alle città di Milano e Palermo che, prime tra tutte le città italiane, diedero l'avvia a una gara di solidarietà che, con i fondi raccolti, consentì la ricostruzione in un luogo sicuro di un nuovo quartiere. La notizia di questa tragedia ebbe allora un vasto eco sull'intera nazione. Ci fermiamo adesso per una pausa pubblicitaria. MTG torna tra poco. Ben trovati in studio. 60 pali di illuminazione pubblica. I LED sono stati accesi in via Vanella 11 a Modica, il quinto impianto che viene realizzato nell'ultimo anno dall'amministrazione Abbate. Si sono accese le luci in via Vanella 11 a Modica. 60 nuovi corpi illuminanti a LED di ultima generazione sono stati messi in funzione. Il progetto di illuminazione pubblica coinvolge svariate zone del Modicano, dopo San Luca, Pirato, Cava Maria, via Alberto Portogallo e via San Bartolo, a Dolorata Mola. Installati più di dieci anni fa e praticamente mai entrati in funzione, se non per qualche mese, questi impianti sono risultati essere insufficienti al bisogno e molto dispendiosi in manutenzione. Per questo motivo, ha detto il sindaco Abbate, abbiamo predisposto la loro sostituzione progressiva su tutto il territorio. Ora continuano gli interventi su Modica Alta, su zone densamente abitate, antropizzate, credo sono il fiore all'occhiello della città anche per tante villette, tante residenti di questa zona, di questa contrada. Finalmente si urbanizzate, è un sogno quello di poter avere l'illuminazione anche per quanto riguarda la sicurezza, la possibilità di farsi una passeggiata di sera. Quello che per tanti anni è stato un desiderio di questo quartiere si è realizzato, grazie all'impegno di tutta la squadra, dall'assessore Linguante, dall'assessore Lorefice, ma tutta la squadra al completo si è voluto abbattere perché con questo progetto stiamo riuscendo a fare quello che per tanti anni non si era fatto, riuscire a realizzare quelle opere di urbanizzazione che ogni cittadino ha pagato con il costo del rilascio delle proprie concessioni edilizie che mai sono stati spesi nei quartieri e mai sono state realizzate le infrastrutture. Tra i prodotti siciliani più apprezzati, il pistacchio di Bronte torna protagonista della 29esima edizione dell'Expo che è dedicata proprio all'oro verde. Si comincia questo venerdì alle 18 con il taglio del nastro. Tutto pronto per la 29esima edizione dell'Expo del pistacchio, la sagra che a Bronte richiama ogni anno migliaia di persone desiderose di assaggiare tutte le prelibatezze preparate con l'oro verde. Si comincerà venerdì 28 alle 18 con il taglio del nastro e si proseguirà per tutto e il fine settimana. Si continuerà poi nel weekend dal 5 al 7 ottobre. Stamattina la conferenza stampa di presentazione è l'edizione 2018 che sarà, come detto dal sindaco, ricca di novità e che sarà improntata sulla sicilianità. Expo Sagra dove il nome non è solamente una variazione terminologica ma sta ad indicare il fatto che il nostro pistacchio è sicuramente qualcosa di unico ed inimitabile. Quindi ritorna questa 29esima edizione che mette al centro non solamente il frutto come dire così prelibato da essere conosciuto in tutto il mondo ma che mette al centro di questo evento la sicilianità. Non è un caso che per le attività ludiche di divertimento si siano scelti non solo i gruppi locali perché a Bronte abbiamo bravissimi gruppi locali ma si siano scelti dei gruppi siciliani che cantano ed esaltano il tema della sicilianità. Anche quest'anno un coinvolgimento diretto delle scuole agli studenti sarà data la possibilità di godere di visite guidate per ammirare le bellezze monumentali di Bronte e di gustare il gelato al pistacchio e poi ancora tante iniziative per tutti i visitatori. Quest'anno avremo delle novità importanti durante la sagra del pistacchio abbiamo cercato con tutte le nostre ristrettezze economiche di organizzare una sagra di eccellenze ma soprattutto di non deludere i visitatori che saranno presenti a Bronte durante il periodo del prossimo fine settimana venerdì, sabato e domenica 28, 29, 30 settembre e 5, 6, 7 ottobre. Tanti partner commerciali che credono in questo progetto che porta alto il nome della Sicilia e di Bronte. Come Grae Gruppo Radenza ci siamo dati un nuovo scopo un nuovo obiettivo di promuovere il territorio siciliano quindi tutte le sue bellezze tutte le sue eccellenze come il pistacco qui oggi e questa è la nostra terza tappa siamo stati ad Ortigia poi a Sciacca sempre per delle eccellenze del territorio siamo siciliani dobbiamo credere nella nostra Sicilia e dobbiamo portare avanti quindi il nostro territorio siciliano. Ed è tutto per questa edizione grazie per averci seguito vi auguro un buon pomeriggio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.